Sono stati spostati i cassonetti di prossimità in contrada piana a scunchi pani. Dalla strada principale, ieri sono stati trasferiti in un posto meno visibile, in una piccola bretella della strada statale 115, nei pressi del rifornimento di benzina Eni. Diversi cittadini, però, la scorsa notte, nella prima mattinata di oggi, hanno continuato a conferire rifiuti nell'area dove prima sorgevano i cassonetti, creando una vera e propria discarica. C'è di tutto, svariati sacchetti, rifiuti speciali e persino una carcassa di animale. Già in precedenza, come dichiara ai nostri microfoni il presidente del comitato piana a scunchi pani, Rosario Vitrano, era stato abbandonato in zona, persino dell'Eternit spezzato. Io premetto che qualche dieci giorni fa è stato depositato dell'Eternit sfaldato, che si trova anche qua davanti, e che ho segnalato al sindaco come autorità sanitaria locale e ai vigili urbani per i controlli e ho proposto, nel contempo, che l'area venga sottoposta a videosorveglianza e incrementare i controlli della Polizia Municipale. Giorni fa ho avuto una telefonata da parte dei tecnici del comune, i quali mi preannunziavano che i cassonetti posti in questo sito sarebbero state rimosse. e quindi io mi sono premurato subito a organizzare un incontro con i contradaiole per avvertirle di questa decisione, a quanto pare dovuto al fatto che il proprietario del terreno voleva rientrare in possesso dell'area e non sopportava più questo degrado nella sua proprietà. Abbiamo fatto l'incontro e nel corso dell'incontro il tecnico del comune ci ha rappresentato la situazione che i cassonetti dovevano essere rimosse e collocati in un'altra area, area che hanno individuato più avanti della Cronion, dove attualmente si trovano. Che sarebbe dalla parte opposta dove ci troviamo adesso? Sì, nel contempo gli abbiamo prospettato il fatto che una volta rimosse, i cassonetti dell'immondizia, la gente, non trovandole, sarebbe diventata una discarica a cielo aperto. Cosa che si sta verificando, come potete ben constatare. Quindi voi adesso chiedete la rimozione di questi rifiuti qui collocati e anche delle telecamere, dei controlli? Come ho precedentemente detto, che questi rifiuti vengono rimossi giornalmente come avveniva prima, perché io contro la ditta non ho niente da discutere, perché loro ogni mattina portavano via l'immondizia all'interno delle cassonette. Ma i rifiuti speciali, l'Ethernet, l'immondizia bruciata, purtroppo rimanevano sempre qua. Adesso che i cassonetti non ci sono più, oltre all'Ethernet e rifiuti bruciata abbiamo anche l'immondizia normale, perché la gente non trovando più i cassonetti è coscierta a depositarla qua. Gente che non è soltanto della contrada, ma verosimilmente viene anche da altre parti? Sì, vengono anche da fuori, perché li vedono depositare, qualcuno li ha visti depositare l'immondizia, e partono per altre contrade.